Ottanta aziende insediate sulla statale 106 e sulla via Appia chiedono di poter scaricare le acque reflued depurate utilizzando la condotta di proprietà dell'ASI, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Taranto. A breve tutto ciò sarà possibile, lo ha annunciato il presidente dell'ente Emanuele Papalia, il quale ha delucidato il quadro venutosi a creare a seguito dell'introduzione della normativa 152 del 2006 in materia ambientale. Al momento sono due i canali di scarico in mare che servono la zona industriale. Nel 1982 la rete interna allo stabilimento ILVA e i canali di scarico a mare furono affidati in uso e gestione alla ex nuova Italsider SPA riservando al Consorzio il diritto di convogliare nei canali di scarico l'intera rete esterna allo stabilimento previ e intesi operative tra l'ILVA e le altre aziende al fine di salvaguardare la qualità delle acque sversate. Nel primo canale di scarico confluisce la cosiddetta seconda rete di proprietà dell'ASI quindi al fine di affrontare e risolvere il problema in maniera condivisa i vari enti interessati lo scorso 5 maggio verso la provincia di Taranto alla presenza di Regione Puglia, ARPA e Consorzio ASI hanno tenuto un tavolo finalizzato a coordinare e razionalizzare l'utilizzo di tutte le infrastrutture. Al termine dell'incontro si è convenuto sull'opportunità di proporre al Ministero l'individuazione di due gestori dell'intera rete realizzata dall'ASI è precisamente una rete con gestore ILVA interna allo stabilimento e comprendente il canale di scarico a mare l'altra rete con gestore ASI interamente esterna allo stabilimento è interessante le imprese insediate ed insediande in aree industriali ASI. La nostra proposta è innanzitutto in collaborazione con la provincia e con l'ARPA e che si dia la possibilità anche alle altre imprese che stanno nelle aree industriali di poter usufruire dei canali per scaricare a mare. L'ILVA logicamente ha una responsabilità perché è quello che ha la parte terminale e la legge prede che chi ha la parte terminale è responsabile. Stiamo cercando di organizzare che possa essere tranquilla che noi faremo i monitoraggi e le salvaguardie affinché tutte le imprese che andranno poi a collegarsi devono avere l'autorizzazione dalla provincia e saranno monitorate dall'ARPA e dall'ASI.